Nel corso di formazione dedicato al PBL, vale a dire al Problem Based Learning, noi ci occuperemo di questa modalità. Innanzitutto, essa è una metodologia che, come dice il nome, mette al centro il problema, un problema da risolvere. Quindi in questa metodologia viene ribaltato il tradizionale approccio sulla base del quale si danno inizialmente agli studenti gli strumenti per risolvere un problema e poi i problemi da risolvere. In questo caso l'approccio è opposto. Inizialmente si presenta un problema e gli studenti, affrontandolo, impareranno gli strumenti teorici che porteranno poi alla risoluzione o alla non risoluzione del problema. E in genere, in questa modalità, si lavora su problemi il più possibile autentici e reali, vale a dire su casi il più possibile concreti. Come si organizza un PBL a scuola, premesso che ci sono tantissime varianti? In genere si individua un problema il più possibile reale e concreto, vale a dire un problema nei confronti del quale i ragazzi si potrebbero trovare a gestire la risoluzione in un momento della loro vita. Si danno naturalmente ai ragazzi alcuni strumenti per la risoluzione, quindi parliamo di argomenti parzialmente noti per i ragazzi, e poi si assistono gli studenti durante il processo di risoluzione dei problemi, che può variare a seconda della complessità del problema, da qualche settimana a qualche mese. In genere, in ogni caso, il PBL chiede tempi piuttosto lunghi. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono molti. Parliamo in questo caso di una didattica realmente esperienziale, dove al centro è il problema da risolvere. Essenzialmente il problema è il processo che porta a questa risoluzione. Un altro vantaggio è che per lo più il PBL funziona in gruppo. Può essere organizzato anche in singolo, ma i risultati migliori avvengono in un processo di apprendimento cooperativo, quindi apprendere grazie anche agli altri, e pertanto si preferisce organizzare un PBL in gruppo. L'altro grande vantaggio è che si apprende per scoperta, cioè tramite una modalità che non sempre viene messa al centro dei processi di apprendimento a scuola, e poi si è notato che, diciamo statisticamente, processi che hanno visto una didattica maggiormente esperienziale tendono a rimanere più a lungo nella formazione, nel curriculum di uno studente. Cosa impareremo nel corso? Innanzitutto impostare il più possibile problemi di natura reale, di natura concreta, questo sia per le discipline maggiormente umanistiche, per le quali a volte è più complesso, che per le discipline scientifiche, per le quali invece è più semplice. Poi impareremo a caricare anche i nostri materiali online su siti dedicati al PBL, o comunque una didattica cooperativa e per scoperta. Poi vedremo anche come utilizzare strumenti di condivisione, perché i ragazzi lavoreranno talora in presenza insieme, talora daremo loro degli strumenti invece per lavorare in condivisione ma da remoto, quindi non fisicamente presenti. E poi, l'aspetto forse più interessante, impareremo a valutare, oltre che i risultati di un compito, di un problema, anche i processi che hanno portato alla risoluzione. Questo forse è l'aspetto più importante sul quale occorre farsi più domande, perché quello che conta molto spesso è vedere il processo che ha portato a un risultato più che il risultato in quanto tale. E attraverso delle rubric, o più banalmente attraverso delle semplici griglie, è possibile valutare questi processi in fieri. Cosa è necessario per un corso su PBL? Naturalmente un PC che sia fisso portatile, un tablet, perché molti dei siti che useremo esistono anche in versione mobile, naturalmente una connessione ad internet. Gli strumenti online maggiormente utilizzati per chi adopera la modalità PBL sono soprattutto Blendspace, che è un sito che consente di caricare molte risorse in modo particolarmente ordinato, poi siti di cloud come Dropbox o Box o Google Drive. E infine strumenti di collaborazione e produzione dei contenuti come sono Google Documenti o per la comunicazione Google Hangout, che ha un funzionamento molto simile a Skype, ma non richiede pressoché nessuna installazione nella macchina in cui lo si utilizza, se non un account Gmail. Per quanto riguarda il numero di ore incontri, in genere si preferisce organizzare un corso in 6 o in particolare in 9 ore per un numero di incontri che variabile dai 2 ai 3.